Oh sì, allora lo spinare è mio! Evviva! Yuhuu! Oh, 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 tesoro, c'è un urgente bisogno che ti metti a dieta! Ma, tesoro mio, perché dici così? Perché io non ci sto più in macchina! Guarda come mi tocca stare! Eee, ma così prendi un po' l'aria! Su, non ti lamentare sempre! Oh, Peppa, non ci posso credere! Un negozio di spinner tutto per noi! Oh, davvero, Giorda, quant'è che lo vogliamo? Finalmente la mamma e papà ce lo prenderanno! Dai, bambini, mi sa tanto che siamo arrivati! Scendete tutti! Ma, papà P, che cosa stai aspettando a scendere? Oh, ecco, beh, mi sa che non riesco ad uscire fuori da questa macchina! Ah, e poi dici che non hai bisogno di metterti a dieta! Eh, sì, vabbè, costa un po' di pancino! Però aspetta, qual è buono? Io penso di farcela! Oh! Oh, eccomi! Vedi, mamma Pig! Non sono così grosso! Eh, sì, ne riparleremo a casa! Dai, bambini! Entriamo nel negozio! Oh, che bello, che bello! È proprio qui! Dai, dai, sbrigatevi! Non vediamo l'ora! Ma che cosa stai aspettando? Su, sbrigatevi! Noi siamo già dentro! Oh, Peppa! Non mi sembra vero! Guarda quanto è bello questo! Oh, non è possibile! La mamma non me lo coprerebbe mai! È troppo sofisticato! Vediamo se va veloce! Peppa! L'hai visto? Guarda! Oh, mamma mia, George! È semplicemente stupendo! Guarda! Oh! Oh! Allora, bambini, avete trovato qualcosa? Oh, ma sono questi, questi spinner fidget! Oh, sì, mamma! Sono proprio questi! E questo è proprio stupendo! Io ho deciso! Voglio questo! Ma, George, non hai mai guardato gli altri? Vieni un po' a vedere! Guarda un po' di qua! Questo non sarebbe meglio per te per iniziare? Cosa dici, tesoro mio? E questo? No, non mi piace! Forse piace a Peppa! Peppa, veni a vedere! Sono sicura che a te ti piacerà! Eh, fa vedere! Ma no! Questo è per i bambini piccoli! Io non lo voglio! Io voglio questo qua! Ma, bambini, ce n'è solamente uno! Bisogna... Ma si può dividere in due! Dovete decidere! Oh, Peppa, l'ho vista prima io! Non è vero! L'abbiamo visto insieme! Ma che cosa stai dicendo se te l'ho tirato giù io? No, non è vero! L'ho vista io, ti ho detto! Peppa, non fare così! George, io sono la sorella più grande, quindi decido io! E io avrò questo spinner, è mio! Tu te ne vai a prendere un altro! No, è mio! Vai via da lì! Oh, bambini, bambini, su! Cercate di risolverla in un modo un po' più... Un po' più, insomma! Così non va mica bene! Non si può litigare! Oh, mamma Pig, vieni un attimo qui! Mamma, George mi ha fatto male! Mi ha fatto cadere! Ma, insomma, George, ma cosa ti è venuto in mente? Oh, non è vero! E poi non l'ho fatto apposta! E perché lei continua a dire che questo spinner è il suo? Ma, George, questo spinner è per i bambini un po' più grandi! Tu non lo puoi prendere! Hai visto? Lo sapevo! Questo spinner è mio! Oh, papà, io voglio questo spinner! Ma, insomma, mamma Pig, l'ha visto prima George! Non lo puoi dare a Peppa? Oh, no, mamma, non è vero! Non l'ha visto prima George! Oh, insomma, bambini, mi state facendo la testa piena! Adesso ho bisogno di riflettere! Oh, adesso, ma che cosa devo fare? Lo devo prendere a George, che l'ho visto per prima! Ma, oppure, lo devo prendere a Peppa, che sicuramente, essendo più grande, sarebbe più capace! Oh, che scelta difficile! Non so come fare! Oh, dai, papà, fa qualcosa! Oh, George, io ci sto provando, però lo sai che alla fine è mamma che decide tutto qui! Oh, mamma, dai, ti prego, ti prego! Io voglio questo, è fatto apposta per me! Guardalo! E poi per George va troppo veloce! Oh, Peppa, mi sa che va troppo veloce anche per te! Oh, mmm, uffa! Eh, allora, forse avete ragione! Forse io sono ancora troppo piccola! Oh, sì, allora lo spinner è mio! Evviva! Yuhuu! Oh, 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 sono caduta anche io! Oh, mamma mia, mi sa che... Questo è uno spinner per i grandi! Ecco, avete visto? Questo spinner non va bene per voi! Dai, guardate quelli dietro! Guardate come sono carini! Mmm, sì, forse sono carini! Cosa dici, Peppa? Ma, sì, le possiamo provare! Oh, bravi bambini miei, così mi piacete! Dai, provateli, sono sicura che vi piaceranno! È vero, Papà Pig? Oh, sì, 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 sono sicura anche io! Dai, Peppa, provalo! Ok, oh, vediamo! Vediamo se va veloce! Oh! Wow, come va veloce! Oh, lo voglio provare! Yuhuu! Guardate, ci so anche stare! Yuhuu! Oh, sì, mi piace, mi piace! Oh, brava, Peppa! Dai, George, prova il tuo! Oh, però il mio deve andare veloce come quello di Peppa, eh! Se no, non lo voglio! Vediamo! Wow, George, guarda come va veloce! Dai, proviamolo! Uh, sì, 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 mi piace, mi piace! Oh, deciso! Io voglio questo verde! Oh, io voglio questo blu! Oh, meno male, bambini, che fatica! Per un attimo, sono andato un po' in defiance! Oh, Papà Pig, quanto sono complicati questi bambini! Oh, però, mamma Pig, sei sempre la più brava! Sai sempre come risolvere tutti i problemi! Sei proprio un'ottima mamma! Ah, lo so, Papà Pig! Grazie, me ne sono accorta anche io! Ok, bambini, che cosa dite? Torniamo a casa? Giocate con il vostro super spinner? Oh, sì, 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 andiamo a casa! Compriamoli, compriamoli! Ok! Oh, oh, ma quanto pesano! Oh, oh, salve! Buongiorno, vorrei comprare questi due spinner! Oh, buongiorno, certamente! Io li metto, Sam, subito in scatola, un attimo solo! Ecco fatto! Ecco lei i suoi spinner! Oh, la ringrazio! Grazie mille, arrivederci! Oh, oh, quanto pesano! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Non vi preoccupate per me, basta che mi torni a prendere più tardi! Va bene, Papà Pig, allora ci vediamo più tardi! Ciao, ciao ragazzi! Via, torniamo a casa! Andiamo a provare i nostri spinner! Yuhuu! Ciao!